Bene amici, oggi provo la Rolls Royce delle dashcam Blackview DR750 Sì, perché quando faccio le recensioni delle dashcam, molti nei commenti mi scrivono Eh ok Andrea, ma quando parcheggio la macchina e magari qualcuno in fase di attromarcia me la prende dentro Oppure mi bucano le gomme, c'è qualcuno che mi ha preso di mira e mi fa gli scherzi come posso monitorare Beh, con questa, anche da remoto, perché la particolarità di questa dashcam è che ha una SIM integrata LTE integrata Ovviamente bisogna ammetterla noi, non è fornita in dotazione, ma con la connettività cellulare possiamo avere una live view da remoto Sempre e comunque, e comunque i file che registriamo dalla dashcam in manuale o quando c'è un incidente o mille altri motivi Anche in fase di parcheggio quando ci prendono dentro la macchina perché c'è un accelerometro Beh, vengono salvati direttamente in cloud, oltre che sulla micro SD integrata Ma vediamo un attimo cosa c'è in confezione oltre a lei La cam posteriore che può essere messa anche eventualmente per riprendere quello che succede dentro all'abitacolo E abbiamo la possibilità di cablarla tramite accendisigari come l'alimentazione Questo è il cavo per collegare quella anteriore e quella posteriore Poi molto bene che Blackview fornisce un sacco di accessori per il montaggio Dalla levetta per spostare, scalzare un attimo le guarnizioni, nascondere il cavo a tutti gli adesivi per fissare i cavi che davanti vanno a dietro Il, diciamo, spillettino per togliere la sim L'adattatore per la micro SD è proprio la micro SD della memoria integrata Ma vi dirò di più, per sfruttare al 100% questa cam e renderla sempre attiva e sempre connessa Sector Cam mi ha mandato anche Blackview Sì, Sector Cam ormai è il mio guru delle dash cam Ha un sacco di dash camera, ha un sacco di cose interessanti, gadget per la macchina Solo di un certo livello, ma veramente ha tantissima esperienza E lo ringrazio per avermela mandata Questa è la batteria che consente a questa cam di rimanere attiva fino a 24 ore In registrazione anche timelapse Lei può registrare un frame al secondo in modo che in 24 ore venga fuori un filmato non esageratamente lungo Ma possa comunque cogliere tutto quello che succede attorno alla vettura Questa è una batteria interessante, vi faccio vedere perché Prima di tutto, espansione Sì, perché si possono mettere più batterie, 1 a 24 ore, 2 a 48 ore, 3 a 72 ore Insomma in base alla vostra esigenza di registrazione da remoto E poi si può alimentare e collegare in maniera molto semplice O con un cablaggio un po' più strutturato, magari fatto dal vostro installatore di fiducia Quindi si può collegare direttamente alla batteria della vettura Con anche i fusibili che vengono dati in dotazione Oppure più semplicemente, se vogliamo un collegamento più semplice Con anche qua vedete collegamento all'accendisigari Si attacca qua nell'ingresso E poi in uscita semplicemente si attacca questo adattatore Al quale collegare l'ingresso Accendisigari, proprio del dashcam Insomma o montaggio più strutturato o volendo anche plug and play Qua abbiamo anche lo stato della batteria E anche la spia bluetooth Sì perché tendenzialmente questa batteria va installata nascosta E allora per vedere lo stato di carica, di salute eccetera eccetera Ci sarà un'applicazione ma poi andremo a vedere come funziona sul campo Un'uscita USB per collegare quello che volete Tablet Non so smartphone Se volete una porta di ricarica in macchina magari non ce l'avete E poi qua la possibilità di dirgli se stiamo ricaricando la cam in maniera cablata Oppure in maniera accendisigari Cioè la cam lui La batteria si ricarica in un'ora e mezza Se la attacchiamo all'accendisigari In 40 minuti se la colleghiamo direttamente alla batteria della macchina Ma adesso direi che vado a montare tutto Faccio l'elettrauto Ma eccomi in macchina Ovviamente installazione provvisoria Visto che questa è un'auto in prova Ho collegato la presa accendisigari La batteria si è già accesa Ho collegato anche l'uscita Che poi collegherò alla dash camera La cosa interessante è che in un attimo Ho scaricato l'applicazione Ho fatto la scansione del bluetooth Ho trovato subito la batteria E come vedete si è collegata E ci dà tante informazioni Ci dice che adesso sono al 10% di ricarica Ci dice che ci metterà ancora un'ora e 4 minuti a caricare completamente Ci dice anche la corrente di uscita Che in questo momento è zero Perché ovviamente non ho ancora collegato la dash camera Cosa interessante è che ci dà anche il tempo di utilizzo rimanente In base al consumo Adesso attacco lei Ok attaccata anche l'uscita Con l'adattatore per sempre presa accendisigari Come vedete ho optato per l'installazione plug and play Si sono accesi led Mi ha parlato e mi ha detto Sto inizializzando la scheda di memoria Quindi quello ha fatto e poi mi ha detto Ora però attiva la scheda sim integrata E per fare questo ci vuole l'app Scansioniamo il QR Ok Voilà Telecamera registrata Passo 2 Per collegare direttamente il telefono al wifi della dash cam Premere wifi E andare qua in alto destro dove c'è questa iconcina Che recita attivazione scheda sim E qua si inserisce l'APN del gestore della sim che si è messa dentro Quindi in teoria compatibile con tutti i provider E dopo aver messo l'APN di Vodafone Tutto a posto E lei mi ha detto Accesso cloud attivato Si parla E che non riesco mai a registrare Che non becco l'attimo Vabbè fidatevi E direi che ci siamo Adesso poi la collego sul vetro Ma funziona tutto Guardate mi sono già arrivate Delle notifiche qua Di impatto Ovviamente impatto Io che spostavo la cam Ma soprattutto andando in cloud Le mie cam Vedo le registrazioni E che ovviamente ha salvato Grazie all'LTE sul cloud di Blackview Ma anche la live view Se schiaccio Guardate mi dà la geolocalizzazione Sta parlando Lei mi ha detto Ah c'è un gran casino Scusate a basso Lei mi ha detto che è iniziata la visualizzazione live Questo per questioni di privacy E guardate Qua vedo dove sono E vedo anche Quello che vede la dash camera Fantastico Siamo online Posso montare tutto Si attacca con il biadesivo di 3M Preinstallato Decisamente adesivo Ok Attacco lì E direi che La cam questa Che dovrebbe fare La parte posteriore Io la installo qua In modo che guardi Dentro la vettura Perché voglio usarla più come cam di sorveglianza E poi da qua dovrebbe anche prendere dietro Però questa la potete installare dove volete O sull'1.8 O qua Che guarda gli occupanti E ragazzi Direi che ci siamo Questo sono io Quella sono le due cam Ho fatto un cablaggio Dai Per essere provvisorio Mi faccio i complimenti da solo E vedete Siamo live Con la connessione LTE Si perché il mio cellulare È connesso a internet Non direttamente alla cam E anche la cam È connessa a internet Ovviamente posso avere La visualizzazione Delle due cam Frontale E posteriore Vedete anche lo switch È abbastanza rapido L'unica cosa Non sono proprio il maestro Della bolla Sì non le ho attaccate Proprio drittissime Ma ripeto Vabbè È provvisorio Nell'applicazione Blackview Direttamente C'è il link Alla batteria Guardate Adesso mi dice Che ho una tensione bassa In ingresso Perché ho la macchina spenta La accendo Così che arrivi più tensione Alla Diciamo alla presa Accendi sigari E voilà Vedete È andato via Quell'avviso Ho messo lì sotto La batteria Così da vedere anche Le temperature Tempo di ricarica Ancora 28 minuti Insomma dai Proviamo tutto Ma mi sembra già Una soluzione Super interessante Per monitorare la macchina E vediamo la qualità Al tramonto Facendo così C'è un sensore di prossimità Parte una registrazione Manuale E impostabile Volendo Si può anche mettere In muto La registrazione Dell'audio Ma Adesso vediamo Come riprende In questa situazione di luce Targhe E contesto Et voilà Parcheggiati Al supermercato Adesso Farà un timelapse E adesso Tac Ristrazione manuale Per vedere Come riprende Al buio Completo Vabbè quasi completo Timelapse della notte E la mattina Retromarsi La macchina davanti E è andata così Però avete visto Quanto sia Affidabile Questa Cam Vi faccio vedere Al volo L'applicazione Qua avete Le notifiche Adesso ovviamente Ci sarà appunto La registrazione Di questo evento Le altre notifiche Sono di connessione Di sconnessione Perché quando andate a fare Delle diciamo Variazioni Di impostazioni Da remoto La cam si spegne Si accende Quindi Si sconnette Si disconnette Vi dice Quando inizia la modalità Parcheggio Quando si aggiorna Il firmware Perché si può Aggiornare OTA Da remoto Direttamente Dall'applicazione Insomma Poi ci sono tutte Le notifiche Di quello Che è successo Ma vi faccio vedere I menu Se andiamo in cloud Possiamo Vedere Tutto quello che succede In macchina E le registrazioni Ovviamente Da remoto Basta schiacciare Sulla nostra cam Camera Sono proprio Le registrazioni Residenti Sulla dash cam Vi dice anche Qual è stato l'evento Che ha scatenato La registrazione E vedete qua Evento qua Proprio quando c'è stato Il frucchettino E posso far vedere Cosa si può fare Copiare Nella memoria interna Qua vi ricordo Che il file È in macchina Quindi farà il giro Macchina Cloud Di BlackV E poi vostro telefono Oppure fare upload Io faccio direttamente L'upload in cloud In modo che Rimanga salvato In alta qualità E ho specificato Alta qualità Poi vi farò vedere Perché Diciamo che faccio L'upload Anche della camera Interna E niente qua Possiamo vedere Proprio tutte le registrazioni Come vedete La cam Registra di continuo Io l'ho settata Che in modalità Parcheggio Vi ricordo Ci entra automaticamente Quando parcheggiate Lei registri Un frame Per secondo Ma poi ci sono Delle opzioni Che vi faccio vedere E poi registra Ovviamente anche Sempre quando andate E fa file Ogni minuto Cioè ogni minuto Vi fa un file Diverso Anche perché pesano tanto Vi dico subito 250 megabyte Alla massima qualità Del video Quindi minima compressione Oppure 4,5 megabyte Quindi molto molto Compresso Se sparate su cloud In maniera Compressa Il file Qua abbiamo la possibilità Come ho fatto vedere ieri Di andare a vedere In diretta Quello che sta facendo La macchina O meglio Quello che stanno facendo Dentro e fuori La macchina In questo caso Ho il sole contro Ma comunque vedete Che si riesce a visualizzare Abbastanza bene E GPS tracking È una funzione Che è disponibile Solamente a pagamento Sì perché Con diciamo L'acquisto della cam Avete un accesso Free al cloud Limitato Cosa vuol dire Limitato Che avrete 90 giorni Di mantenimento La registrazione su cloud Massimo 10 minuti Di live view Al giorno Massimo 100 accessi Al cloud Per vedere i filmati O scaricare i filmati E non avete Il tracking Del GPS Avete solamente La posizione puntuale Che si vede Schiacciando qua Carta geografica L'abbonamento Mi sembra che sia 12 dollari al mese Andate sul sito Ci sono tutte le specifiche E vi da live view Illimitata Insomma Tante più cosettine Ma anche così Col base Funziona decisamente bene Vedete qua Il track GPS Che mi dice Dov'è La mia telecamera Ma torniamo indietro Perché voglio farvi vedere Le impostazioni Se andiamo qua Vedete Possiamo andare A settare Per quanto riguarda Il firmware della cam Vabbè L'ora La qualità delle immagini Io ho messo Vedete in estremo Quindi molto alto La luminosità Della cam E per quanto riguarda La registrazione Possiamo settare Che in modalità parcheggio Tempo trascorso Vuol dire appunto Il timelapse Un frame al secondo Oppure che resiste solamente Quando rileva Movimenti e impatti Oppure possiamo Disattivare la registrazione In modalità parcheggio Ma non ha tanto senso Qua possiamo settare Se registrare la voce Oppure no Per privacy Visualizzare l'ora data Sulla sovraimpressione Della registrazione L'unità della velocità Bloccare i file di evento Vuol dire che Diciamo la registrazione normale Cioè l'h24 Quando andiamo O in parcheggio Andrà a sovrascrivere I file h24 Ma non andrà a sovrascrivere I file Degli eventi E poi la sensibilità Importantissimo Bello che il sensore Accelerometro È a tre assi Quindi voi potete settare La sensibilità Per ogni asse Magari volete che l'impatto Sia sensibile Meno rispetto al dosso Insomma potete Settarvela come volete Qua potete settarla In modalità normale O in modalità parcheggio Vedete in modalità parcheggio Io ho messo la sensibilità Molto alta Perché voglio che senta Anche il minimo urto Come quello che c'è stato oggi Quindi un pif Un parcheggio Mentre in modalità normale Ho messo la sensibilità Molto bassa Perché voglio che registri Solamente quando c'è un crash Altrimenti ogni dosso Ogni buca Ogni diciamo avvallamento Della strada Ve lo segnala E poi Bellissima La possibilità di settare La regione di individuazione Del movimento Io per esempio Nella telecamera posteriore Che ho messo appuntata Nei sedili Ho attivato che Registri Quando c'è un movimento Su tutta l'area Di registrazione Perché praticamente Riprende solamente dentro Mentre la frontale Non voglio che registri fuori Quando c'è un movimento Perché Parcheggiandola fuori Magari passa qualcuno E mi parte la notifica Allora ho disattivato tutto Ma qua si può proprio Settare esattamente Come una IPcam Le zone di rilevamento Del movimento Ecco qua Un consiglio a Blackview Sarebbe bello Che si potesse Geolocalizzare Il Diciamo La rilevazione Del movimento In base a dove è la macchina Per esempio Io voglio che Quando sono parcheggiato Nel mio box Attivi le notifiche Al rilevamento Di qualsiasi movimento E magari voglio che Quando invece è parcheggiata fuori Non attivi niente Oppure solamente Quella interna O comunque personalizzarmela In base al GPS Sarebbe Secondo me Una Cosettina in più E poi In sistema La possibilità di Settare i led Accensione e spegnimento In base un po' A come vogliamo Noi Il sensore di prossimità Si può settare Come registrazione Manuale Oppure Registrazione Vocale Attiva Disattiva Il volume Della cam Riavvio programmato Molto importante Ho impostato Tutte le notti Alle 3 Perché comunque Come tutti Gli apparati elettronici Poi registrando Di continuo E meglio Degli un riavvino E qua lo fa In automatico E poi La sovraimpressione Test utente Si può mettere Una Qualsiasi Sovraimpressione Qua si può andare A settare Le LTS Sino Credenziali E anche Avete visto L'APN E poi In cloud Si può attivare O disattivare Il servizio cloud E qua si può settare Quali sono le notifiche Che vogliamo Ci arrivino Sul nostro cellulare Comodo Che si può anche settare Un eccesso Di velocità Quindi se diamo la mano La macchina Magari a qualcuno Diciamo non andare Più di 130 all'ora Da qua possiamo controllare Che effettivamente Non si vada di più E poi il firmware Ovviamente linguaggio in italiano Vi ho detto prima La possibilità di Aggiornarlo Ota Andiamo a farci L'ultimo giro Per vedere la qualità Di giorno E poi trarre le conclusioni E in questo momento State vedendo La registrazione Del piccolo Impatto Versus La mia Tiguan Bello il fatto Che nonostante Fosse in registrazione Timelapse Quando ho sentito L'impatto Ha comunque registrato Un file normale Non in timelapse E come vedete Anche col controsole Si vede bene Anche la targa Che ho scurato Per motivi di privacy Fortunatamente Non c'è stato nessun danno L'impatto è stato Molto molto Piccolo Ma adesso Proviamo A vedere come gira Con la luce del giorno Controsole Anche se lo abbiamo visto Prima nella toccatina Ma voglio vederla Anche qua In movimento E passaggio Tra sole E ombra E qua Le migliori condizioni Possibili Ovvero Tanta luce Parcheggiato in box Qua ho un 3G Flebile E ho ancora 4 ore E 27 Di modalità Parcheggio Ovviamente Se avete Una necessità Di avere Più ore Di registrazione In modalità Parcheggio Dovete aggiungere Le batterie Comprarne Di capacità Più Grande Ma per un utilizzo Quotidiano Magari Tragitto Casa Lavoro E ritorno Di un'oretta Si carica comunque All'80 85% Se l'attaccate All'accendisigare Se no in 40 minuti È completamente carica Se la collegate Con il Finto fusibile Che vi ho fatto vedere All'inizio Beh È una gestione Di tempi Quotidiana Che è più che sufficiente Ma qua dipende Proprio dalle Vostre esigenze E le conclusioni Partono dal prezzo 469 euro La cam 339 La batteria Costa oggettivamente Tanto Ma L'LTE È un valore Aggiunto Che è un vero Grande valore Aggiunto Perché Pensate con una Dashcam Tradizionale Beh Voi dovreste Arrivare al mattino Guardare i file Se ci sono stati Dei bump Nella notte Guardare se Magari avete visto Un graffio Tornare indietro Ma quando sarà stato fatto Guardare le registrazioni Insomma Un casino Con la notifica Cambia veramente tutto Notifica in tempo reale Vista in tempo reale Perché vi arriva la notifica Pamm Potete andare A vedere cosa succede Proprio come fosse Una IP Camera Tra l'altro C'è l'applicazione Sia per pc Sia per mac Che fa le stesse cose Che fa l'app Per smartphone Sia ios e android Ovviamente C'è la disponibilità Una considerazione Su quanto Questa camera è cara E quanto Vi potrebbe far risparmiare Pensate Paraurti Identificare Chi ve l'ha sfrisato Pensate I maledetti Con la chiave O che vi fanno la portiera O che vi bucano le gomme Con la visualizzazione La registrazione Beh Riuscirete a beccarli Grande soddisfazione Grande risparmio L'altra possibilità Che c'è È che BlackV Ha anche delle cam Wi-Fi Che si possono collegare A degli hotspot Wi-Fi Allora lì si può risparmiare Sì qualcosa Magari prendendo Un vecchio cellulare Che non usate più Mettendogli dentro Una sim E piazzandolo Nel cassettino A fare da hotspot Più o meno La durata della batteria È quella del cellulare Ma ovviamente Ci servirà comunque La batteria ausiliaria Per fare andare In registrazione Continua La cam Critica invece Un po' Alla qualità Di visualizzazione A questo prezzo Mi sarei aspettato Quanto meno Un 4k Ma c'è da dire Che i contrasti Il controsole Quando c'è poca luce La notte Vengono gestiti Abbastanza bene Le targhe sono comunque Abbastanza ben Riconoscibili Quindi Bel prodotto Caro Ma Ci sta Perché Mamma mia Quante soddisfazioni Che mi sarei preso In passato Un saluto da Andrea Galeazzi Punto Maledetti Voi che fate i bampini Rovinate i paraurti E graffiate le portiere Con le chiavi Proprio non li sopporto Ciao Ciao